Sensibilizzare i bambini sull'importanza del risparmio idrico e su come nasce l'acqua potabile che arriva direttamente nelle loro case. Questo l'obiettivo dell'iniziativa che si è tenuta oggi a Firenze in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Il Comune, Publiacqua e Water Right Foundation hanno aperto alle scuole del territorio le porte dell'impianto dell'Anconella per mostrare agli studenti come si depura l'acqua e insegnare le buone pratiche perché l'educazione ambientale è un'abitudine che va imparata sin dall'infanzia. Arno, un fiume per amico, è il progetto che abbiamo predisposto come autorità di bacino nell'ambito delle chiavi della città, quindi uno dei percorsi di approfondimento che i ragazzi fanno, i ragazzi delle elementari e i ragazzi delle medie. Il fiume è un amico ed è un amico non soltanto perché ci si può stare, si può vivere vicino al fiume, anzi lo si deve fare, è un amico perché poi parliamo dei tanti animali, delle piante, quindi facciamo conoscere ai ragazzi tutto quello che c'è attorno a un fiume che spesso non è conosciuto e poi spieghiamo però anche ai ragazzi di quanto sia importante preservare il fiume e soprattutto sapere chi se ne occupa, che cosa succede quando c'è troppa acqua, che cosa succede quando ce n'è troppa poca, insegnando loro anche a come risparmiarla a partire dai piccoli gesti quotidiani come quello del rubinetto chiuso, del risparmio appunto nei piccoli gesti che devo dire i ragazzi fanno qualche volta in modo migliore rispetto agli adulti, anzi sicuramente è più semplice farlo capire a loro che non alle persone più grandi. Il 2013 è stato proclamato Anno Internazionale della Cooperazione Idrica, un altro tema al centro dell'evento fiorentino pensato per le scuole, dove è stato presentato il progetto TRIE Senegal, che ha realizzato i primi pozzi in Africa che funzionano a energia solare, mentre Publiacqua e Waterright Foundation hanno parlato delle loro iniziative per portare l'acqua nelle zone meno fortunate del mondo. Qui a Lanconella arrivano circa 10.000 bambini, ragazzi, studenti, universitari l'anno per capire come funziona il mondo dell'acqua e purtroppo noi abbiamo un mondo che per qualche scherzo della natura vede zone come la nostra con tanta acqua e zone dove l'acqua non c'è. Questa mattina abbiamo presentato un report sulla cooperazione idrica internazionale che ci vede impegnati come Publiacqua, siamo l'unica azienda europea che ha adottato un sistema grazie ai nostri sindaci di garantire l'1% degli utili per scavare pozzi, portare fognature, depurazione nei paesi dove si muore ancora letteralmente di sete o di acqua inquinata. Quindi noi abbiamo aiutato in questi ultimi sei anni circa un milione di persone, salvandogli a volte la vita anche e siamo pronte ad aiutare altri 3 milioni e mezzo di persone con i progetti concentrati soprattutto tra l'Africa, l'Asia e l'America Latina.